Ciao, sono Matteo Rapparini, direttore di sicurezzapratica.it In questo video breve voglio presentarti le caratteristiche di Postdoc Postdoc è un software utilizzato da centinaia di utenti per realizzare il piano operativo di sicurezza è un software estremamente semplice da utilizzare è un software che ti permette veramente in pochi minuti di compilare un post completo in tutte le sue parti e di stamparlo inoltre grazie alle banche dati aperte puoi personalizzare gli archivi che sono comunque già precaricati per tipologie di azienda il software è disponibile in due versioni, versione light a 99 euro più iva e versione full a 199 euro più iva la differenza è che nella versione da 199 euro più iva, quella full hai tre licenze, quindi puoi installarlo su tre pc e hai l'assistenza per 12 mesi compresi gli aggiornamenti tecnici l'assistenza viene erogata comunque inizialmente anche per la versione light da 99 euro e viene erogata tramite email oppure anche in teleassistenza per maggiori informazioni mi puoi contattare allo 051 35 38 38 oppure tramite email a info chiocciola ed irama.org grazie per aver chiesto maggiori informazioni sul post grazie per aver guardato il video